Il Consiglio Direttivo della Lega Pro durante la riunione del 27 luglio scorso ha esaminato a seguito delle verifiche effettuate dai competenti uffici le 15 domande di ripescaggio e la domanda di sostituzione depositata dalle società entro il termine del 26 luglio per completare l'organico della terza serie professionistica italiana. Le società che hanno presentato domande sono Albinoleffe, Lupa Roma, Aurora Propatria, Melfi, Racing Club Roma, Forlì, Fondi Calcio, Alma Juventus Fano, Olbia, Taranto, Cavese, Monza, Regina, Rieti, Vibonese e Lecco. Il Consiglio federale durante la riunione del prossimo 4 agosto delibererà quali delle sue indicate società siano in possesso dei requisiti necessari per essere iscritti al campionato di Lega Pro 2016-2017 e immediatamente stilati i tre gironi. Nei giorni successivi invece saranno diramati i calendari. Grazie a tutti.